Ciao ragazzi, sono Riccardo, ho 13 anni e frequento la terza media. Mi piace suonare la chitarra, guardare le serie tv, ma la mia passione più grande è quella della cucina. Ho questa passione perché ogni giorno insieme a mia nonna ho esperimento nuove ricette. Queste nuove ricette, a sera poi, a cena, le facciamo assaggiare a mio nonno. Trascorro molto tempo della giornata con i miei nonni a causa del lavoro dei miei genitori. Il mio sogno più grande sarebbe appunto quello di aprire un ristorante e sperimentare le ricette tradizionali e famose in tutto il mondo. Il mio sovrannome è Cardo, come il carciofo, perché come vedete il mio aspetto fisico è baffutello e quindi molti mi prendono in giro. Alle scure medie ho incontrato un amico molto speciale, Alfa, con il quale ogni giorno noi ci vediamo al parco. Egli vuole diventare un grande ingegnere. Insieme ad Alfa noi abbiamo incontrato anche Olivia, una nostra amica delle scuole medie, che è rumena e con lei noi parliamo molto spesso di quelle che sono le ricette più tradizionali della sua terra. Queste ricette amplificano in un certo senso quella che è la mia conoscenza sulle varie ricette e voglio conoscerle sempre più.